questa cosa che cercheremo di fare adesso quindi noi ci siamo messi short con un'operazione in intraday questa sera alle 8 ci aspettiamo davvero un'altissima altissima altissima volatilità quindi quello che cerchiamo di fare è un'operatività sempre con un rischio rendimento molto a nostro favore ok quindi in questo caso abbiamo messo uno stop loss molto stretto un target abbastanza ravvicinato con un ingresso sui minimi precedenti ok quindi questa è un'operazione che sicuramente io vi vi invito a valutare poi appunto come adesso senza entrare chiaramente nel dettaglio perché avremmo bisogno solamente di due ore per parlare di questo ma io vi ricordo vi segnalo che il giorno 30 c'è il corso sulla stagionalità la stagionalità è uno strumento molto potente moltissimo potente tant'è che è stata come ho già detto altre volte la tecnica più amata e più apprezzata da tutti i corsisti che hanno partecipato al corso vivere di trading tra l'altro corso che sta già dando grandi soddisfazioni perché insomma chi ha partecipato sta già ottenendo degli ottimi profitti come abbiamo scritto in questo articolo che in un articolo che è molto molto interessante appunto stavo dicendo quindi la stagionalità sul sull'euro dollaro ci dice che dal mese da fine giugno in avanti le probabilità che l'euro salga sono molto molto alte quindi io non avrei assolutamente dubbi a mettermi a rialzo se non ci fosse la grigia quindi appunto cominciamo dato che anche guardando il grafico giornaliero stiamo cominciando a staccarci da questa media mobile da questa trend line appunto abbiamo dei target rialzisti importanti perché se dovesse continuare così non è assolutamente è molto probabile un arrivo in area 1.16 del prezzo dell'euro dollaro ma un arrivo in area 1.20 non è assolutamente da escludere ok quindi molto importante quello che succederà questa sera la cosa che io ci tengo sempre a spiegare è che allora se proprio vogliamo fare una cosa intelligente la cosa da fare sarebbe stare fermi fino a domani capire dove i prezzi si sono mossi da che parte sono andati se sono andati allora tenete presente che in questo momento siamo a 1.12 se i prezzi si scantano e vanno verso l'alto arrivano come minimo ma minimo 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 a 1.16 quindi sicuramente avremo molte altre occasioni per entrare al rialzo grazie a tutti grazie a tutti